Nel vagone ristorante tutto era di nuovo in ordine. Poirot e Book si misero l'uno accanto all'altro a uno dei lati più larghi di un tavolo. Il dottor Costantin si sedette invece con le spalle verso il passaggio fra le file di tavolini. Di fronte all'investigatore era stata preparata una sedia per coloro che, chiamati a mano a mano, si sarebbero avvicendati nell'interrogatorio. Poirot aveva davanti a sé una piantina del vagone Istanbul Calais, con i nomi degli occupanti dei vari scompartimenti segnati a inchiostro rosso. Accanto, ammucchiati, i passaporti e i biglietti. Sul tavolo c'era anche carta per scrivere, un calamaio, penna e matita. Benissimo, esclamò l'investigatore. E ora possiamo aprire senz'altro la seduta della commissione in inchiesta. Diciamo così. Per prima cosa dovremmo sentire le depositioni del conduttore del vagone Istanbul Calais. Probabilmente lei, Buch, sa qualcosa di costui. È un uomo degno di fede? Nel modo più assoluto, direi. Pierre Michel è alle dipendenze della compagnia da oltre 15 anni. È francese e abita vicino a Calais. Persona rispettabile e assolutamente onesta, forse non di notevole intelligenza, ecco. Poirot a noi, come a dire che comprendeva. Benissimo, mandiamola a chiamare allora. Michel si era un po' ripreso dall'emozione, ma era ancora estremamente nervoso. Spero che i signori... esordì. Non vorranno credere che vi sia stata una negligenza da parte mia. Guardava Poirot e Buch con evidente ansietà. È terribile quanto è accaduto. Poirot lo calmò con poche parole e diede inizio all'interrogatorio, senza preamboli. Per prima cosa gli domandò quali fossero esattamente le sue generalità, il suo indirizzo, il tempo da lui passato in servizio in generale e su quella linea in particolare. E ora, Michel, veniamo agli avvenimenti di stanotte. A che ora il signor Rushett si ritirò nel suo scompartimento e andò a letto? Quasi immediatamente, finita la cena, signore. Cioè subito dopo che il treno è ripartito da Belgrado. Mi aveva ordinato di preparargli il letto mentre stava a cena e così ho fatto. È entrato qualcuno nello scompartimento dopo? Il cameriere e quel signore americano, il suo segretario. Nessun altro? No, Messie, che io sappia. Benissimo. Ed è stata quella l'ultima volta che lei lo ha visto e lo ha sentito parlare. Se lei ricorda ha suonato il campanello che era mezzanotte e quaranta circa, subito dopo che ci eravamo fermati. Che cos'è accaduto allora esattamente? Ho bussato alla porta, ma lui ha detto che non era nulla e che si era sbagliato. Parlò in francese o in inglese? In francese? Quali sono state le sue parole esattamente? Ce n'è rien e je suis trompé. Verissimo, questo ricordo di averlo sentito anch'io. E allora lei se ne andò? Sì, Messie, sono andato a rispondere a un'altra chiamata. Ora Michelle le farò una domanda molto importante. Dove si trovava lei all'una e un quarto? Io? Ma è sul sedile in fondo al corridoio, vicino al passaggio di collegamento con la vettura di Atene. Ne è proprio sicuro? Ma sì, soltanto... Soltanto? Sono andato nella vettura seguente, quella a punto di Atene a chiacchierare con il mio compagno. Si parlava della neve, doveva essere l'una passata da poco. E quando è tornato indietro? Quando ho sentito suonare il campanello. Ricordo di averglielo detto, Messie era l'americana che aveva suonato parecchie volte. Sì, ricordo infatti. E dopo? Dopo sono venuto da lei che pure aveva suonato. E le ho portato una bottiglia di acqua minerale. Poi sarà stato una mezz'ora dopo ho preparato il letto di un altro scompartimento, quello del segretario del signor Ratchett. E quando è andato nello scompartimento a preparargli il letto, il signor McQueen era solo? No, Messie, c'era con lui quel colonnello inglese del numero 15. Erano seduti insieme a chiacchierare. E che cosa ha fatto il colonnello quando ha lasciato il signor McQueen? È rientrato nel proprio scompartimento, il numero 15, il secondo a partire dal mio sedile. E il letto del colonnello era già pronto? Sì, Messie. Che ore saranno state quando i due si sono lasciati? Non glielo so dire con esattezza. In ogni modo, non dopo le due certamente. E dopo lei che cosa ha fatto? Dopo? Sono rimasto al mio posto fino alla mattina. Si è addormentato? Ma non credo, il treno fermo mi impediva assolutamente di assopirmi un po', come di solito faccio. Ha visto qualcuno dei passeggeri attraversare il corridoio in senso o nell'altro? Michelle riflette un po' prima di rispondere. Sì, una delle signore è andata alla toilette, all'altra estramità del corridoio, credo almeno. Come sa, la parete fa in quel punto una rientranza. Quale signora? Non saprei. Era in fondo al corridoio e mi voltava le spalle. Aveva indosso un kimono scarlatto con draghi ricamati. Puoro a noi. E dopo? E dopo più nulla fino a stamattina? Ne è sicuro? Chiedo scusa, Messier, ma lei stesso ha socchiuso la porta del suo scompartimento e ha guardato fuori? Bene, amico mio. Volevo vedere se ricordava anche questo particolare. È vero, sono stato svegliato da un rumore, o meglio da un tonfo, come se qualcosa di pesante fosse caduto contro la mia porta. Hai idea di che cosa possa essere stato? Michelle lo guardò sorpreso. Ma nulla, Messier, nulla, glielo posso assicurare. Allora vuol dire che ho avuto un incubo, osservò Puoro. A meno che lei non abbia sentito qualche rumore nello scompartimento attiguo, fece Buck. Puoro parve non badare a quella supposizione, forse non voleva discuterla in presenza del conduttore. Riprese. Passiamo ora a un altro punto, Michelle. Supponiamo per un momento che la notte scorsa un assassino sia salito sul treno. Lei è proprio sicura al cento per cento che non si sarebbe potuto allontanare dopo aver commesso il delitto. Michelle scrollò la testa. E neppure per ipotesi che possa essersi nascosto in un punto qualsiasi del treno. Si è cercato dappertutto, ebbene, intervenne di nuovo Buck. Metta da parte questa idea, amico mio. A quale stazione il treno ha fatto l'ultima fernata? A Vincovci. A che ora? Secondo l'orario dovevano ripartire alle 11.58, ma a causa della neve avevamo venti minuti di ritardo. Qualcuno che fosse stato nelle vetture ordinarie sarebbe potuto passare allora nei vagoni letto? No, Messier, dopo che è stata servita la cena, la porta di passaggio fra le vetture ordinarie e i vagoni letto viene chiusa a chiave. A Vincovci lei è sceso? Sì, Messier, sono sceso sul marciapiede come al solito. Sono rimasto accanto agli scalini dello sportello della mia vettura. Gli altri conduttori hanno fatto la stessa cosa. E lo sportello vicino al passaggio che collega la vettura al vagone ristorante? È sempre chiuso dall'interno? In questo momento no, replicò secco Poirot. Il conduttore parve meravigliato, poi il viso si rischiarò. Senza dubbio l'ha aperto qualcuno dei viaggiatori per guardare fuori la neve. È probabile, fece Poirot. Per circa un minuto rimase pensieroso. Ora me lo ricordo, riprese. Lei ha detto che mentre bussava alla porta del signor Rashet ha sentito suonare un altro campanello e infatti l'ho sentito anch'io. Chi suonava? La principessa Dragomirov voleva che le chiamassi la cameriera. Poirot si chinò sul tavolo a studiare la pianta che aveva davanti a sé, poi concluse. Bene, per il momento non ho altro da chiederle. Grazie, messie. Michelle si alzò, poi guardò angustiato Book che lo rassicurò dicendo. Non ti preoccupare, Michelle, non mi pare che vi sia stata alcuna negligenza da parte tua. Il conduttore, soddisfatto, se ne andò. Capitolo decimo. La deposizione del segretario. Per qualche tempo Poirot rimase assorto nelle sue riflessioni. Infine disse. Credo che sarebbe bene parlare ancora un po' con il signor McQueen. L'americano non tardò a presentarsi. Ebbene, come vanno le cose? Esordì con tono cordiale. Non scemale, fece Poirot. Si accomodi pure. Da quando ci siamo visti ho purato un fatto interessante, cioè chi era veramente il signor Rashet. McQueen si protese verso l'investigatore. Si? E chi era dunque? Il nome di Rashet, come lei sospettava, era falso. Il morto si chiamava Cassetti, l'uomo che si dedicava ai sequestri di bambini e che fu implicato nel famoso rapimento della piccola Daisy Armstrong. Un'espressione di vero sbalordimento apparve sul viso di McQueen. Poi egli si accigliò esclamando a denti stretti. Ah, demonio. Lei non sospettava nulla di simile? No, davvero. Replicò risolutamente l'americano. Altrimenti sarei morto di fame piuttosto che accettare il suo posto di segretario. Questa notizia la impressiona molto a quanto vedo. Ho una speciale ragione. Sicuro, per essere impressionato. Mio padre era il procuratore distrettuale disegnato per il caso Armstrong, signor Poirot. Io stesso ebbi modo di vedere più di una volta la signora Armstrong. Era un'amabile donna, così dolce, così triste. E di nuovo il viso di McQueen si rabboiò. Semmai un uomo ha meritato di essere ucciso. Questo è proprio Cassetti, o Rashet che fosse. Si crederebbe quasi che lei rimpianga di non averlo usciso con le sue mani, sorrise Poirot. Precisamente, vede io. Ma qui l'americano si interruppe, arrossì e soggiunse imbarazzato. Come se mi accusassi comportandomi così, lo capisco. Sarei più propenso a sospettare di lei, signor McQueen, se mostrassi un eccessivo dolore per la morte del signor Rashet. Eccessivo dolore. Non reciterei mai una simile commedia per salvarmi dalla sedia elettrica. Ma se non sono troppo indiscreto, com'è riuscito a scoprire l'identità di quell'uomo? Mediante un frammento di lettera trovato nel suo scompartimento. Ma è stata... voglio dire, mi pare che Rashet abbia commesso un'imprudenza gravissima. Dipende dal punto di vista, rispose Poirot Sibillino. Il segretario parve non comprendere il significato preciso di quelle parole e fissò l'investigatore. Poirot ignorò quello sguardo e disse invece. È mio dovere a scertarmi di ciò che hanno fatto ieri sera tutti coloro che sono sul treno. Non c'è da offendersi. Una semplice formalità. Certamente. Dica pure. Non ho bisogno di domandarle qual è il numero del suo scompartimento, visto che per una notte abbiamo dormito insieme. Sorrise Poirot. È quello di seconda classe con i numeri sei e sette, che quando me ne sono andato è rimasto occupato solo da lei. Precisamente. Ora, signor McQueen, vorrei pregarla di dirmi per filo e per segno che cosa ha fatto ieri sera, dopo essere uscito dal vagone ristorante. Facilissimo. Sono tornato nel mio scompartimento. Ho letto un po' e poi alla stazione di Belgrado ho passeggiato per pochi minuti sul marciapiede. Ma faceva troppo freddo e sono quindi risalito subito. Ho chiacchierato poi con quella signorina inglese che ha lo scompartimento vicino al mio e infine ho scambiato quattro chiacchiere con quel colonnello inglese, Arbutnot. Anzi, mi sembra che mentre parlavamo sia passato lei, signor Poirot. Dopo sono entrato dal signor Ratchet e, come le ho già detto, ho preso da lui appunti su alcune lettere che dovevo scrivere. Gli ho dato la buonanotte e l'ho lasciato. Il colonnello Arbutnot era ancora nel corridoio. Dato che il suo scompartimento era già preparato per la notte, l'ho invitato nel mio. Ho ordinato due bibite e abbiamo continuato a discutere di politica, del governo indiano, della situazione finanziaria degli Stati Uniti, dopo la crisi di borsa, e così via. Lei ha idea di che ore fossero quando vi siete congedati? Ma abbastanza tardi. Le due circa, direi. Si è accorto che il treno si era fermato? Oh sì, per un po' non sapevamo che cosa pensare. Poi abbiamo guardato fuori dal finestrino e abbiamo visto che c'era tanta neve. Dunque il colonnello se n'è andato. E allora? Quando sono rimasto solo ho chiamato il conduttore perché mi preparasse il letto. E intanto che lui faceva questo, lei dov'era? Nel corridoio, davanti alla porta a fumare una sigaretta. Poi me ne sono andato a letto. Durante la sera è sceso di nuovo dal treno? Arbutnot e io avevamo intenzione di fare due passi a... come si chiamava quella stazione? Ecco, Vinkovci. Così tanto per sgranchirci le gambe, ma il freddo era intenso e siamo risaliti subito. Da quale sportello eravate scesi? Da quello vicino al mio scompartimento. Cioè quello che è vicino al passaggio di collegamento con il vagone al ristorante? Precisamente. Ricorda se fosse chiuso dall'interno? McQueen riflette un attimo, poi riprese. Ma sì, mi pare di ricordare che fosse proprio così. Perlomeno c'era una sbarretta che bloccava la maniglia. E nel rientrare avete rimesso a posto la sbarretta? No, non mi pare proprio. Sono stato io a rientrare per ultimo. No, mi ricordo proprio di non averla rimessa a posto. McQueen soggiunse improvvisamente. Ma ha importanza questo? Potrebbe averne. Ora immagino che mentre lei era nel suo scompartimento a parlare con il colonnello la porta che dà sul corridoio fosse aperta e così. L'americano annui. Bene, se le fosse possibile vorrei che lei cercasse di ricordare una circostanza dopo che il treno è partito da Vinkovci e fino al momento in cui il colonnello se n'è andato, ha visto passare qualcuno nel corridoio. McQueen aggrottò le sopracciglia nello sforzo di ricordare. Sì, mi sembra che sia passato una volta il conduttore. Veniva dalla parte del vagone ristorante. Contemporaneamente veniva anche una donna, ma in senso inverso. Quale donna? Non saprei. Mi pare di ricordare soltanto di aver visto di sfuggita come un indumento di seta scarlatta che passava davanti alla porta. Come lei sa il mio scompartimento è vicino al vagone ristorante, quindi se una donna fosse passata per il corridoio in quella direzione l'avrei vista subito, quasi subito, di spalle. Sì. E andava alla tua letta, immagino. Può darsi, ma non ne sono sicuro. E l'ha vista tornare? No. Ora che mi ci fa pensare posso dire di non essermi accorto che tornasse indietro, ma immagino che sia tornata. Naturalmente. Ho un'altra domanda, signor McQueen. Lei fuma la pipa? Io? No. L'investigatore riflette un attimo prima di soggiunger. Credo di non doverle domandare altro per ora. Vorrei parlare con il cameriere del signor Rushett. A proposito, viaggiate in seconda classe di solito voi due? Lui sì, io invece viaggio in prima e possibilmente prendo lo scompartimento attiguo a quello del signor Rushett. Così lui poteva mettere nel mio scompartimento la maggior parte del suo bagaglio. In questo viaggio però, poiché tutti gli scompartimenti di prima erano già prenotati, all'infuori di uno, l'ha preso lui naturalmente. Capisco. Grazie, signor McQueen. Bentornati su Narrazioni Senza Importanza. Allora, ho fatto una leggera modifica rispetto ai capitoli come sono stati pensati dalla Christi, perché la Christi ha diviso il libro in diverse parti e ciascuna parte ricominciava con un capitolo 1. Io, per comodità e per permettere la fruizione di tutti i capitoli di sequenza senza che ci fossero confusioni, e anche per semplificarmi la vita, lo ammetto, ho deciso invece di proseguire con la numerazione, quindi non ci sarà un altro capitolo 1, 2, 3, eccetera, ma riprenderemo da dove è finita la prima parte e si continuerà con la numerazione, diciamo, conseguenziale. È semplicemente una questione di praticità. In ogni caso, come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Comincio la parte un pochino più forse noiosetta, dove ascoltiamo tutte le varie deposizioni e ovviamente, insomma, per chi invece vuole avere maggiori informazioni sarà bene che tenga le orecchie belle aperte. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento, condividendo il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram e come sempre vi aspetto al prossimo capitolo. Alla prossima!